Qua io voglio che, guarda, un uno di voi, un uno di voi fa, hop, hop, io sempre sono qui, vedi? Sono sempre qui, io posso anche, posso anche, sì, diciamo, da, 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 basta di non andare, non vanno troppo qui, neanche non sono qui, hop, hop, e spingo, ok? Controlo, può essere anche, sì, spingo, qui, 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 ora si può fare il triangolo, vedi? Controllo, amba, se guarda, la gamba controllo il braccio, controllo bene, bene, appena non, può essere che anche mi assiguro, con questa braccia dentro d'essere ma non puoi fare? metà braccia e metà gamba è liberato io esco con la cintura di 160 vengo qui posso continuare vedi lui è uscito lo dico è da la a posto si chiara la condizione non funziona basta subito cintura mettere e uscito un triangolo si può fare amba e una braccia però non funziona hai si basta insegurarsi vorremmo ancora un po' di lunga un metro qua hop testa qua tutto il tuo corpo si 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 ok così adesso pian piano passa occupa posizione comoda per te si e avanti ok ok adesso ti sentito subito quando si 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 sono in coppia quando lavori voi ti dici guarda non è comodo lavora leggeretto che sei no 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 destra 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 si si vai piano 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 eh triangolo dovete molto più più vi dico subito appena appena non avete rosso legamenti io ho trovato una volta così posizione di piede quando fai triangolo così così questa cosa non funziona ok dai ancora due volte poi passiamo perché faccio queste cose questo è difficile non che si incontrano tanto questi tecnici però lei è abbastanza mobile tu fai tanti movimenti salvando questo obiettivo capisci tieni l'obiettivo e fai il capiolo e poi quando farai qualcosa molto più semplice una cosa più semplice sarà anche più veloce per te a memorizzare questo obiettivo questa cosa devi fare testa vai 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 lascia garantitare il braccio non era controllo di braccio non perdi tempo subito passi a tecnici ho sentito ho messo dietro anche destra gamba destra si ho sentito si ho messo dietro anche gamba destra si si però io posso coprire così provi provi fai tutto gamba dico se ti provo fai quello che vuoi vedevo